Ma in tutto, perché per me il mondo è aperto a tutti, che ben venga tutto quello che arriva anche di altre parti del mondo, se uno non c'è la possibilità di viaggiare, di vedere, di conoscere, allora se ce l'abbiamo, perché no? Meglio dare, prendere e veramente fa arrivare queste notizie, perché di rivolgere passa parola, è molto importante. Anche se io non sono nessuno e sono la tua vicina di casa, ma di un'altra razza, ok? È bello conoscere, è bello abbracciare altre culture, altre sonorità, altri piatti del mondo, altre abbiamenti, di tutto. E questo è il bello, e che io spero, lo auguro, sempre lo dico, non è solo adesso, io sempre dico, cioè, maledetto che ha creato le frontiere.